Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano e code in uscita a Firenze Sud. Sulla FIPILI in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e lo svincolo dell'A1 di Firenze Scandicci, code in uscita alla Strassigna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis Tiberina per lavori chiuso al traffico il tratto di carreggiata nei comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro in direzione Orte. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!